Luigi Vitale torni a Terni dopo una stagione sfortunata a Castellammare con l'obiettivo credo di ricalcare le orme di due anni fa quando hai vissuto una stagione straordinaria, dieci gol, dieci assist, una grandissima stagione la tua. Sì, quella è stata una grandissima stagione quella lì, spero di farla di nuovo perché ci sono tutti i presupposti per farla dopo un'annata del genere a Castellammare, allora ho tanta voglia di giocare, spero che mi rimetto presto fisicamente in forma. A proposito, hai giocato 40 minuti nel corso della ripresa, quali sono le tue condizioni attuali? Non credevo che potevo giocare 40 minuti oggi sinceramente, dopo un allenamento di stamattina, il viaggio, subito mi se ne ha fatto giocare, sono contento di quello che ho fatto almeno oggi. Pensi di essere convocabile per la gara di Coppa Italia di domenica o è ancora troppo presto? Spero che il Mise non mi convoca, sinceramente, proprio te lo dico francamente, voglio allenarmi bene per arrivare al top il 30 per la prima, dai. Tra l'altro arrivi a Terni a titolo definitivo perché eri in scadenza con Napoli tra un anno, con un biennale e hai voluto fortemente la Ternana, il Novara ti seguiva, ti offriva un trenale a cifre superiori, la tua ferma volontà di arrivare a Terni credo che non abbia bisogno di ulteriori commenti. No, no, ci sono state queste due squadre, ma non solo, c'è altre piste che lo sa il mio procuratore. Anche Livorno? Anche, cioè non lo so per certo io, dobbiamo chiedere a Luca, però ho fatto questa scelta di venire qua perché due anni fa mi sono trovato benissimo e quindi ho detto vicino a Luca, vediamo se possiamo andare alla Ternana di nuovo. Gigi, per chiudere ritrovi qualche compagno di due anni fa come Brignoli, come Meccariello, come Massi nella seconda parte del torneo, Fazio, Ceravolo. Quali prospettive secondo te questa Ternana che è ancora un cantile aperto, qualche altro giocatore arriverà? Io sono sicuro che la società farà altri acquisti perché penso con me dentro siamo in 16, 15, 16, giusto? Penso che la società tranquillamente farà altri acquisti. I vecchi compagni li ho trovati alla grande, sono rimasto contento del mio arrivo, dai. Bentornato e buon lavoro. Grazie, arrivederci.